Musica Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi, ben arrivato anche il nostro ospite, ve lo presento subito, Mattia Galdiolo, presidente Arcigay Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Allora parliamo di discriminazioni, di discriminazioni sessuali, di omofobia, di stereotipi ma anche pregiudizi sull'identità di genere che comunque esistono nei vari contesti, si parte dalla famiglia, poi si va nell'ambito scolastico, purtroppo moltissimi fatti che sono segnalati di attività di bullismo all'interno delle scuole stesse ma anche delle università nei confronti di chi è considerato diverso e poi naturalmente nell'ambito lavorativo si verificano ancora. Insomma una società che si evolve, che cresce ma sotto certi profili resta ancora ancorata a dei pregiudizi, a dei preconcetti limitativi, limitanti e oltretutto anche esclusivi nei confronti di altre persone. Poi quando si tratta di giovani la questione diventa anche molto delicata e difficile perché sono degli impatti notevoli nello sviluppo della personalità di un individuo. Quante questioni? Noi ne abbiamo già affrontate con degli esperti, psicologi eccetera, qui non vogliamo entrare in queste dinamiche, ma vogliamo capire un attimo che cosa succede in base al vostro resoconto della realtà perché voi avete fatto anche diverse indagini anche a livello nazionale di quel che succede, degli atti anche di violenza che vengono perpetrati a causa del... Sì, Archie Gay attraverso i media principalmente o attraverso le segnalazioni che arrivano alle associazioni sparse sul territorio ogni anno stila un report che è un report qualitativo, cioè racconta le storie e fa una somma delle storie che ci vengono segnalate dai giornali appunto dalle persone stesse. Più che il numero che però è rilevante perché parliamo che orientativamente sappiamo che circa il 70-80% delle persone LGBT per cui gay, lesbiche, bisessuali e trans dichiarano di aver subito discriminazioni o aggressione nell'arco della loro vita scolastica. Che percentuale ha detto? Fra il 70-80%. È tanto, 70-80%. Sì, direi che è molto elevata. È una percentuale molto elevata che però è assolutamente realistica e vicina alle esperienze di tutti quanti perché chi di noi nella propria vita scolastica non ha mai sentito indirettamente un atteggiamento omofobico nella propria scuola o verso qualche compagno o qualche compagna. È nell'esperienza di vita di quasi tutti e sono cose che per chi non è coinvolto passano in sordina ma per chi viene colpito da questo tipo di atteggiamento segnano in maniera profonda del percorso di vita e segnano sicuramente il percorso scolastico e professionale. Ecco però c'è una differenza tra la classica battuta, quella persona è eccetera, come avviene fino a ieri e tutt'ora con fronte di chi è meridionale e nel nord Europa nei confronti di chi è della bassa e di chi è di colore. La battuta in sé per sé può anche essere offensiva senza dubbio ma resta una battuta e poi nel rapporto di interazione invece di conoscenza maggiore e voglio capire questo. Allora la questione è sempre molto sottile però c'è una battuta che fa ridere solo qualcuno e c'è una battuta che fa ridere tutti. Se si vuole essere veramente simpatici si fa una battuta che fa ridere tutti. fare una battuta verso una categoria sensibile per cui possono essere persone omosessuali, possono essere gli stranieri, una battuta razzista, è una battuta che crea un clima d'odio, cioè crea un clima che fa star male non solo le persone che sono coinvolte in quanto neri, in quanto omosessuali, in quanto trasessuali ma fa star male anche tutti gli altri perché creano un clima in cui sanno benissimo che non sarebbero accettati se fossero diversi dalla maggioranza. Per cui va fatto un lavoro di educazione all'umorismo se vogliamo ma più in generale all'accoglienza della diversità. Adesso nelle nostre scuole se non si è bianchi, italiani, non disabili quantomeno e eterosessuali si è qualcosa di diverso. Quando in realtà sappiamo benissimo che la diversità è una fonte di ricchezza per un paese e soprattutto in un ambiente in cui si dovrebbe imparare dalla diversità come nella scuola. per cui sì, la scuola è carente da questo punto di vista, è carente per... Esatto, ma per quale ragione secondo voi che avete fatto questi studi, queste ricerche, che avete anche proprio molte persone tra l'altro, che si sono anche iscritti all'associazione, c'è questa carenza, è comunque ancora delle formule di relazione educativa e ancora altre parametri un po' arcaici? Perché la scuola un po' per sua natura tende a comprimere le ore curricolari nelle attività principalmente didattiche, per cui si insegna la grammatica, la matematica, insomma tutte le materie che fanno parte del percorso di vita di un alunno, ma non gli si insegna quella che una volta era l'educazione civica, che è principalmente un'educazione alla civiltà nel confrontarsi l'uno con gli altri e con il risultato che molto spesso i ragazzi imparano l'educazione civica dai telegiornali, che con tutto il bene che si può volere alla carta stampata e alle informazioni, veicolano delle informazioni che molto spesso sono fortemente diseducative e non si parla solo di telegiornali, si parla di comunicazione nel più ampio senso del termine, per cui non sempre l'educazione che si riesce a ricevere al di fuori della scuola riesce a compensare quella che non si riceve all'interno della scuola il punto semplicemente è che la scuola non riesce più a essere maestra di vita come forse qualche tempo fa era e soprattutto c'è anche da dire che negli ultimi anni sono state sdoganate parole, comportamenti e lessico che erano fortemente stigmatizzate anche fino a dieci anni fa in che senso sono state sdoganate? ma adesso è come dire socialmente accettabile essere razzisti ma insomma non per tutti ma per molte persone lo è soprattutto se si parla di migrazioni, se si parla di persone omosessuali non è, è difficile da spiegare perché è un concetto relativamente sottile però si riesce a rendere socialmente accettabile un comportamento che è anche violento che fino a qualche anno fa era fortemente stigmatizzato una volta dare dell'omofobo a qualcuno in qualche misura lo confinava in un ambito di non discussione cioè l'omofobia era qualcosa di negativo e su questo nessuno aveva niente da dire adesso come dire l'aggressione verso qualsiasi forma di diversità è più in alcuni ambienti soprattutto anche scolastici non è più così fortemente stigmatizzato quindi abbiamo fatto un passo indietro abbiamo fatto un gran passo indietro ma questo fenomeno di recrudescenza di certe manifestazioni a parte i corsi e ricorsi della storia perché poi si va dai momenti di massima se non si impara si ritorna a fare i stessi errori esatto sono dovuti a e poi non sono solo qua in Italia attenzione perché negli Stati Uniti non solo negli Stati Uniti ci vanno giù pesante sono dovuti a che cosa secondo voi? beh, sono dovuti al fatto che certe cose sono sempre sotto traccia è una braccia che arde sempre quella della paura e del diverso è qualcosa che fa parte un po' della natura dell'uomo però c'è stato un passo indietro a livello di civiltà se vogliamo cioè faccio un ragionamento un po' più ampio fino a qualche anno fa l'anno scorso, l'altro anno c'erano delle tematiche come la resistenza il 25 aprile che erano fortemente sentite da tutti e facevano parte del nostro essere un paese civile e fornivano un sistema di salvaguardia a quella che è la struttura del paese adesso sempre meno queste cose si sentono e gioco forte le prime categorie che vengono colpite sono quelle più vulnerabili le persone che stanno, come dire, ai margini di quella che è il mainstream della vita di tutti i giorni per cui le persone omosessuali persone di colore, persone nere o gialle insomma, delle varie nuanze che ci sono in questo paese sono sicuramente delle categorie verso cui però qui c'è un fattore la bandiera culturale deccede però nei confronti di queste commemorazioni che sono storiche sono un po' diverse perché lì c'è un aspetto storico comunque c'è una celebrazione comunque ha un suiter poi ci sono le connotazioni politiche il rischio di avvicinare il rischio altissimo perché dal momento in cui si dà una connotazione come c'è sostanzialmente politica a un'associazione che tu dovrebbe tutelare trasversalmente delle persone che hanno un'identità stiamo parlando di cose oggettive diventa molto pericoloso perché nel momento in cui è in auge quella corrente politica tutto va bene nel momento in cui la corrente politica come normale che sia perché ci sono prima una volta l'una, l'altra, l'alternanza poi le vie di mezzo esatto, democrazia succedono poi problemi invece non dovrebbe essere così cioè se c'è una situazione come dire, io tutelo le donne ma non deve essere necessariamente di destra, di sinistra, di centro perché se no non tutelo più le donne faccio l'esempio o i bambini no, no, non può no, no, certo allora invece tanti danno una connotazione noi come Archie Gay siamo un'associazione che è fortemente equidistante questo è uno stimolo però cerchiamo di mantenere un rapporto di distanza da tutti quelli che sono gli attori politici io dico sempre fare attivismo nei diritti civili vuol dire fare politica senza avere a che fare con i partiti perché di fatto lavori con gli soggetti politici ma non entri nella dinamica del partito o della corrente ed è questa una cosa che personalmente io apprezzo molto della mia associazione è pur vero che nel momento in cui si lavora nell'ambito dei diritti civili si deve guardare chi e cosa viene detto su questi diritti civili su queste questioni noi adesso viviamo in un momento politico in cui le tematiche che ci sono affini per cui le persone LGBT le donne per quanto ci riguarda anche più in generale le famiglie omogenitoriali e le relazioni fra persone dello stesso sesso vengono attaccate da determinate correnti politiche in Italia noi siamo nella situazione per cui di certe questioni sembra ed è un errore politico che ci sia un appalto di certe correnti mentre altre non se ne vogliono assolutamente interessare se non per stigmatizzarle e farne soggetto di campagne populiste ed è questo il problema se in una scuola faccio un esempio si riesce a parlare di questioni che riguardano l'orientamento sessuale e l'identità di genere solo per fare terrorismo verso quella che fino a qualche tempo fa era l'ideologia gender o gli studi di genere o per fare una campagna di disinformazione verso quelle che sono questioni che in realtà hanno una concretezza assoluta per cui si demonizzano le persone transessuali o le persone omosessuali è chiaro che come dire siamo di fronte a una situazione difficile da cui uscire perché non si può dialogare in maniera serena con tutto lo schieramento politico ed è il motivo poi per cui ci sono problemi di questo genere perché la politica non ha un rapporto sereno con le questioni che riguardano la sfera dei diritti civili quando toccano in particolare l'ambito sessuale o l'identità di genere perfetto giuridicamente esistono delle norme di tutela di non discriminazione? beh per quanto riguarda la razza o la religione e questi le sappiamo c'è la legge di Alemancino che tutela queste categorie abbiamo cercato come si sa di estendere la Reale Mancino anche all'identità di genere all'orientamento sessuale ma non c'è stato verso perché ci sono come dire nell'iter legislativo la legge si è arenata questa è stata una preclusione importante? beh forse solo una preclusione politica ci potremmo anche passare sopra il problema è che queste cose incidono nella carne dei cittadini italiani nella vita che le persone conducono tutti i giorni voglio citare il caso perché è particolarmente emblematico una coppia di ragazzi di vittime di Verona sono stati aggrediti prima durante una passeggiata in centro a Verona qualche mese fa e successivamente sono tutto sono stati sono tuttora aggrediti regolarmente nel loro domicilio questo è un caso di una gravità assoluta di cui a cui non si riesce a porre una soluzione è la loro relazione e basta queste sono cose che capitano per cui una legge che crei un aggravio di pena e soprattutto che riesca a dare una connotazione un numero a questo tipo di reati perché non riusciamo neanche a censirli perché è molto difficile è una legge che sarebbe necessaria per questo paese certo allora parliamo anche di questo poi abbiamo un servizio che ci tiene un po' su questo argomento per capire anche di qualche numero ma lo facciamo dopo la pubblicità tra poco grazie a tutti